Imprenditori e istituzioni da Umberti della Pieve Santo Stefano, focus sui fondi di investimento, interviste, relazioni su dati e situazione economica del territorio, la testimonianza dei presidenti delle regioni Toscana e Piemonte, grandi ospiti e temi affrontati. Nel giorno della festività di San Florido, l'aula magna dell'Università Link di Città di Castello ha ospitato la seconda edizione del convegno La Forza dell'Umbria del Nord, organizzato dal gruppo Corriere. Siamo qui per parlare dell'economia, di quel motore del territorio umbro che è quell'area dell'Umbria del Nord che va dal torrente del Mussino fino a Pieve Santo Stefano, toccando quindi la provincia di Arezzo. Lo abbiamo fatto lo scorso anno facendo uno screening della situazione economica, lo rifacciamo quest'anno e lo rifaremo d'ora in poi tutti gli anni il 13 novembre, che quindi può magari essere dedicato a riflettere sulla situazione economica, sulle prospettive e sulle aspirazioni di questo territorio che, ripeto, è il motore trainante della regione Umbria. Focus sull'economia della vallata quindi con un collegamento al mondo del lavoro e della formazione dei giovani. Le nostre evidenze sono per l'Alto Tevere ancora di un tessuto imprenditoriale che sta mostrando una buona competitività, lo abbiamo analizzato nel nostro studio sui bilanci aziendali, dove emerge comunque una produttività maggiore rispetto al resto della regione e anche un profilo di strategie adottate dalle imprese più evoluto. L'economia in tutte le aree chiaramente è un driver trainante per il benessere di una zona, perché questo? Perché è molto importante anche per quello che facciamo noi, noi facciamo education e noi lavoriamo su questo, sul prima, cioè su quello che i ragazzi vorranno diventare da grandi, quindi gli dobbiamo dare gli strumenti per realizzarsi e per rimanere anche nella zona chiaramente per non andare magari fuori regione o addirittura all'estero per trovare lavoro.